Ciao a tutti ragazzi, qui Stefano Martelli, fotografo e videomaker di La Spezia specializzato nel servizio ibrido il primo servizio in Italia che vi permette di avere al matrimonio foto e video con un unico professionista con un sacco di vantaggi potete scoprire tutto sul mio sito stefanomartellifotografo.com ma in questo video di cosa voglio parlare? voglio parlarvi del mio listino prezzi, quindi di tutti i pacchetti che io offro ma voglio proprio parlarvi del nuovo listino prezzi, cioè a partire da ottobre 2022 c'è un nuovo listino con dei pacchetti veramente anche molto esclusivi che includono comunque dei servizi veramente unici, particolari e quindi per le future coppie di sposi, soprattutto le coppie di sposi che hanno intenzione di sposarsi nel 2023 questo è un video molto importante perché cerco di convogliare tutte le informazioni in pochi minuti quindi è importante perché vi voglio spiegare tutti i miei pacchetti quindi vi voglio spiegare in poche parole tutti i pacchetti, cosa includono i miei pacchetti cosa vuol dire i miei pacchetti? i miei pacchetti, io praticamente ho creato appunto dei pacchetti si dice dei pacchetti perché sono dei servizi al cui interno includono diversi servizi innanzitutto tutti i miei servizi per matrimonio includono sempre e solo sia foto che video perché? perché se volete le fotografie andate dai classici fotografi perché io non sono il classico fotografo se volete separatamente poi un video classico andate dal videomaker classico questo cosa vuol dire? vuol dire che io mi distingo un po' dagli altri perché il servizio ibrido è un servizio unico, un servizio esclusivo che vi può offrire dei vantaggi che altri non offrono perché? perché per avere foto e video al matrimonio le soluzioni sono due o avete tanti operatori quindi avete i fotografi e i videomaker quindi i fotografi che fanno le foto e i videomaker che fanno i video quindi vi ritrovate al matrimonio con 3, 4, 5, 6 operatori oppure dall'altra parte avete l'unica alternativa possibile che è il servizio ibrido cioè foto e video fatti dal solito operatore da un unico professionista che sono io e grazie alla mia attrezzatura con la tecnologia moderna voglio dire ormai è possibile, è possibilissimo fare foto e video con un'unica macchina fotografica quindi questo è quello che faccio dal 2018 con un sacco di recensioni positive decine di coppie di sposi che scelgono questo servizio ogni anno quindi per chi vuole scoprire di più adesso vi vado a spiegare appunto i pacchetti che sono 5, sono ben 5 i pacchetti che offro da ottobre 2022 e naturalmente questo ci tengo a dirlo i miei prezzi sono molto dinamici quindi le offerte cambiano da mese in mese i prezzi sono sempre o quasi sempre in costante aumento tant'è che appunto con questo nuovo listino ho dovuto apportare un aumento di prezzi e quindi vi vado a spiegare ci sono 3 pacchetti diciamo standard più 2 pacchetti esclusivi quindi sono qui davanti al computer perché ve ne parlo quindi vi spiego che cosa includono i miei pacchetti naturalmente non vi sto a svelare i prezzi perché chi guarda questo video ora potrei dire un prezzo che però è valido adesso ma il solito prezzo tra 2-3 mesi può quasi sicuramente non essere più valido perché ci sono delle offerte attualmente che sicuramente poi scadranno e quindi è inutile anche che io dica i prezzi per scoprire i miei prezzi potete andare sul mio sito stefanomaltellifotografo.com e scaricare il mio listino prezzi ricevere il mio listino prezzi automaticamente via mail inserendo il vostro nome e la vostra mail così vi arriva automaticamente appunto una mail oppure potete contattare la mia assistente che vi risponderà entro 24 ore e vi fornirà tutte le informazioni quindi partiamo dai tre pacchetti standard con il mio servizio ibrido allora ci sono questi tre pacchetti appunto standard che sono momenti, storie ed eternità questi sono i tre nomi dei tre pacchetti quindi il pacchetto momenti è un pacchetto con un servizio che può durare fino a 8 ore con un singolo operatore e poi avete le 50 foto più belle consegnate in 10 giorni più tra le 3 e le 400 fotografie in alta risoluzione un video tra i 3 e i 5 minuti e la consegna di tutto questo in 90 giorni ok? quindi avete una selezione di 50 foto già entro 10 giorni dal matrimonio e in più entro 90 giorni avete 3-400 foto più il video di 3-5 minuti ok? con una canzone con in omaggio una stampa su tela 30x30 cm ok? questo è il primo pacchetto un pacchetto molto semplice dedicato con le coppie di sposi per le quali non è necessario un servizio troppo lungo perché qui parliamo di un servizio che può durare fino a 8 ore ok? quindi si tratta di quei matrimoni dove magari a volte capitano le coppie di sposi che non vogliono foto e video dei preparativi a casa oppure matrimoni magari intimi che durano particolarmente poco perché magari non c'è un ricevimento lunghissimo non c'è musica, non ci sono balli non ci sono ore e ore di festa diciamo così quindi fino a 8 ore con un solo operatore quindi soltanto con me foto e video con un unico operatore e poi abbiamo il secondo pacchetto che è il pacchetto storie questo è un pacchetto generalmente quello più scelto, più richiesto che dura fino a 10 ore quindi avete la mia disponibilità fino a 10 ore con due operatori quindi oltre a me c'è anche un secondo operatore professionista ibrido perché? a cosa serve il secondo operatore? serve soprattutto per i preparativi perché mentre io sono a fare foto e video da solo dalla sposa c'è il secondo operatore che fa foto e video da solo dallo sposo ok? quindi questo secondo operatore mi segue fino alla cerimonia quindi mi aiuta anche durante la cerimonia e poi rimango io tutto il resto del tempo quindi sessioni di ritratto o comunque tutto quello che viene dopo la cerimonia più ricevimento ci sono solo io poi c'è il drone quindi c'è il servizio drone, foto e video con il drone poi ci sono ben 100 fotografie una selezione di 100 fotografie consegnate in 10 giorni entro 10 giorni poi 4, tra le 4 e le 600 foto in alta risoluzione un video di circa 8-10 minuti e la consegna di tutto questo in 60 giorni quindi vi ripeto nel pacchetto storie fino a 10 ore due operatori drone 100 foto in 10 giorni quindi ricevete già le vostre 100 foto più belle in 10 giorni e poi in 60 giorni 4-600 foto post prodotte e video di 8-10 minuti con due canzoni a vostra scelta in omaggio c'è una chiavetta usb personalizzata e in più un video trailer di 3-4 minuti quindi oltre al video principale di 8-10 minuti avete anche una versione trailer di 3-2-3-4 minuti insomma ok? poi quindi questo è il pacchetto storie e poi c'è il terzo pacchetto il pacchetto eternità il pacchetto eternità è il pacchetto naturalmente quello per chi non vuole farsi mancare nulla quindi c'è la mia disponibilità fino a 12 ore di servizio quindi veramente una bella durata due operatori vale lo stesso discorso fatto per il pacchetto storie quindi un operatore per i preparativi che mi segue anche fino alla cerimonia poi rimango io da solo servizio drone la registrazione integrale del rito quindi la cerimonia viene registrata nella sua interezza dall'inizio alla fine con una videocamera dedicata poi addirittura 200 fotografie selezionate consegnate entro 10 giorni dal matrimonio e poi in 60 giorni avete tra le 5 e le 700 fotografie in alta risoluzione post prodotte e il video sempre di 8-10 minuti con due canzoni in omaggio avete anche un fotolibro 30x30 più tutti gli omaggi precedenti quindi oltre al fotolibro avete anche la pen drive quindi la chiavetta usb personalizzata il videotrailer e la stampa su tela cioè chi più ne ha più ne metta cioè qui veramente avete di tutto e di più ma non è finita qua perché come vi dicevo questi sono i pacchetti standard ho creato anche altri due pacchetti esclusivi ok quindi sicuramente hanno un prezzo maggiore ma hanno un'esclusività delle peculiarità delle particolarità veramente uniche allora il primo dei due pacchetti esclusivi è il pacchetto fuitina questo pacchetto è valido per le prenotazioni con meno di 6 mesi di preavviso ok quindi io cerco sempre di fare il possibile ragazzi ma il servizio ibrido è un servizio molto richiesto e quindi cerco di proprio perché è molto richiesto cerco di spingere le coppie a prenotare con un po' di anticipo ok e come è successo nel 2022 anche nel 2023 negli anni a venire potrei chiudere le prenotazioni con anticipo ok io per il 2022 mi sembra già a marzo o aprile avevo già chiuso le prenotazioni cioè non avevo più disponibilità perché io offro il mio servizio a un numero chiuso di coppie quindi quando arriviamo a 35 matrimoni già chiudo le prenotazioni quindi il pacchetto fuitina è dedicato per le prenotazioni un pochino last minute passatemi il termine e quindi per fare un po' uno strappo alla regola e vedere se riuscire a incastrare qualcuno anche con un preavviso con poco preavviso anche nel momento in cui magari ho chiuso le prenotazioni con la mia disponibilità fino a 12 ore due operatori servizio drone 100 foto più belle in 10 giorni 4-600 foto in alta risoluzione video di 8-10 minuti trailer di 3-4 minuti tutto questo consegnato in 90 giorni in più in omaggio il fotolibro sposi quindi un servizio un pacchetto molto completo però appunto dedicato a chi vuole prenotare all'ultimo secondo e vuole tutto questo ma secondo me il pacchetto più esclusivo in assoluto che mi sono inventato mi sono un po' inventato in questo ultimo periodo è il pacchetto fantasma ok allora il pacchetto fantasma non è che include un qualcosa di particolare ma è l'approccio lavorativo che cambia ok quindi perché l'ho chiamato fantasma questo pacchetto questo tipo di servizio perché sarà come avere un fotografo un videomaker fantasma al proprio matrimonio perché al contrario di come faccio negli altri pacchetti in questo pacchetto in questa tipologia di servizio io non dirò mai niente alla coppia di suo quindi non dico niente a voi sposi vi lascio vivere la vostra giornata senza pose senza intromettermi senza dirvi mai nulla ok quindi se vi dà fastidio anche lontanamente l'idea di avere un fotografo che vi fotografa questo pacchetto che fa per voi ok già con il servizio ibrido spesso le coppie non si accorgono nemmeno della mia presenza ma con questo pacchetto vi assicuro con questo tipo di servizio fantasma vi assicuro che sarà veramente come non avermi quindi mi vestirò come un normale invitato non vi dirò mai nulla quindi voi fate quello che dovete fare io documento il tutto senza guidarvi senza dirvi nulla dopo la cerimonia non si vanno a fare le foto quindi siete liberissimi di stare di fare quello che volete andare a ricevimento andarvi a fare l'aperitivo senza perdere un'ora andare a fare le foto questo è il pacchetto che fa per voi perché io sono lì non vi accorgete di me e quindi infatti come ho scritto qui anche nel mio listino non sentirete la presenza del fotografo disponibilità per tutto l'evento senza limiti quindi se il vostro matrimonio dura 14 ore io sto lì 14 ore non vi dovete preoccupare singolo operatore quindi avete foto e video con un unico professionista 100 foto più belle in 10 giorni 4-600 fotografie in alta risoluzione video di 8-10 minuti trailer di 3-4 minuti tutto consegnato in 60 giorni a parte le 100 foto più belle che vengono consegnate in 10 giorni e in più in omaggio il fotolibro però questo è un pacchetto veramente fantastico in più ci sono tutti i servizi extra servizio prematrimoniale servizio post matrimoniale proiezione al ricevimento stampa istantanea al ricevimento la consegna di tutti i file originali la fast delivery in 30 giorni quindi la possibilità di avere tutto invece che in 60-90 giorni in 30 giorni e poi altre tipologie di fotolibri ok quindi sono riuscito a convogliare tutto in meno di un quarto d'ora però almeno sapete cosa includono in questo periodo i miei pacchetti quindi cosa è possibile prenotare in questo periodo in vista del 2023 come sempre vi dico i miei pacchetti sono molto dinamici quindi possono cambiare da un mese all'altro sia in quello che includono sia soprattutto nei prezzi che sono sempre in costante aumento per diversi fattori quindi da Stefano Martelli è tutto ti ricordo che puoi visitare il mio sito per scaricare il mio listino prezzi quindi scoprire i prezzi ok basta che vai sul mio sito inserisci nome e mail e ricevi automaticamente una mail con il listino e poi se vorrai potrai anche entrare in contatto con la mia assistente che naturalmente se hai bisogno di un'interazione umana quindi di fare delle domande ok c'è la mia assistente a tua disposizione e anche per prendere eventualmente un appuntamento in studio con me sia per prenotare sia per parlare insieme del vostro matrimonio quindi da Stefano è tutto ci vediamo al prossimo video ciao